Ciao a tutti e benvenuti in Niente come i soldi, questo Niente come i soldi, il podcast in cui si parla di soldi perché non c'è niente come i soldi, questa è l'intro, che ne pensi? Interessante, non me l'avevi detto, è un regalo che fai, mi devo presentare? Ah sì, assolutamente sì, vai. Allora, sono Gabriele Sapo, 30 anni, non vorrei dirlo ma sì, 30 anni, e faccio network marketing da esattamente 7 anni. Tutti quelli che mi seguono, loro pensano che io odio tutti gli altri business, tranne il mio, e non è vero. Dimmi cosa tu pensi del network e la prima cosa che voglio chiederti è come fai a riconoscere un buon network. Perché mi fa una domanda, Andrei, dovrei fare network marketing? E la mia risposta è sì, se scegli un buon network. Secondo te cos'è che dovrebbero cercare per trovare un network decente in cui lavorare? Ma allora, il motivo per cui ho scelto il network in realtà è stato un caso. Il mio amico mi parla di network, io ero un calciatore, nel momento della mia vita in cui stavo cercando qualcosa mi propongono il network, quindi in realtà non sono io che ho scelto il network, E il network ha scelto me, probabilmente se il mio amico mi avesse proposto un altro business io l'avrei analizzato perché tu sai benissimo che le persone comprano le persone, non comprano un business. Quindi io ho comprato l'idea che aveva il mio amico, quindi sono partito nel network e poi ti dico io credo che il network sia un grande business per me. Magari per un'altra persona come può essere per te, potrebbe non esserlo, quindi per le mie caratteristiche, io sono sempre stato un calciatore, quindi sono sempre stato nei gruppi di persone, è stato un business in linea alle mie competenze, alle mie capacità. Ma questo l'ho capito dopo. Come scegliere un'azienda di network seria? Adesso non voglio andare troppo lungo e troppo nel dettaglio. Sicuramente è importante scegliere aziende serie, soprattutto al giorno d'oggi, soprattutto nei mercati finanziari, io sono nel settore dell'educazione finanziaria, è molto importante scegliere aziende serie. Prima di tutto devi capire quando è nata. L'azienda non può essere nata tre mesi fa, deve avere un po' di storico. Chi c'è dietro? La comprensione è molto importante. Perché chi c'è dietro intendi fondatori proprio, no? Esatto, fondatori, storia, se seguo un piano compensi adeguato, serio, io ti dico il mio parere personale, il network è nato in America, quindi un network americano, è come dire la pizza, la pizza italiana, la migliore si trova in Italia, quindi secondo me questo è molto importante, e la leadership. Come in tutte le aziende, ma soprattutto nel network, la leadership decide dove va al network. Se hai una leadership di merda, probabilmente quel network andrà male, se hai una bella leadership, belle persone con valori, probabilmente l'azienda prospera, quindi questi sono un po' i criteri con la quale scelgo un'azienda di network. La trasparenza è molto importante, i numeri. Gabriele ha appena finito 50 speech di fila. Sono distrutto. Stai impazzendo, però sta comunque facendo questo podcast. È una cosa che dico spesso anch'io, il mio primo punto è sempre la leadership, a dire il vero, quindi non passo per i punti, vabbè ovviamente tu lo sai meglio. Però io parlo sempre di leadership, perché quando entri probabilmente in un gruppo del genere, tu cominci a guardare verso l'alto e questa persona, cazzo, praticamente ti fidi in tutto di questa persona qua. Quindi ovvio che il leader non può essere un colinazzo, non può essere un tipo che è cascato dal cielo ieri e adesso ha cominciato a fare network dal nulla. Leadership molto importante. Ma da punto di vista, invece, tu allora hai che fare un sacco con le persone, perché network per definizione è questo. Tu sei una persona che di base sei estroverso e riesci a parlare con le persone o sei introverso e poi hai trovato il modo per essere estroverso? Cioè com'è che tu hai sviluppato magari il carisma per vendere? Ma allora, sicuramente tutti possono credere che per fare network bisogna essere estroverso. È ovvio, è ovvio, è ovvio che devi saper stare al mondo e stare con le persone. In realtà la statistica dice che i networker più forti al mondo sono di base di natura introversi. Ma anche gli imprenditori? Ok, io sono una persona che di base sono abbastanza introversa, però se mi metti in un contesto, in un gruppo, ho carisma, ok? Ho dovuto allenare questa cosa, uscire dalla mia comfort zone, parlare anche con sconosciuti, no? Perché gli estroversi sono bravi a vendere, gli introversi sono bravi a costruire. Quindi bisogna essere, passami il termine, estroversi e introversi nello stesso momento. Ambiversi. Ok, quindi con gli estroversi, con la caratteristica degli estroversi devi magari vendere, attrarre fase 1. Con le caratteristiche degli introversi devi costruire nel tempo. È un vero networker perché noi spesso scambiamo il network per vendita. In realtà ti posso dire una cosa, il network non è vendita, non è solo vendita. Ecco, diciamola così. La vendita c'è all'inizio per parlare del servizio, del prodotto, per attrarre nuovi clienti. Ma la chiave, la differenza tra il network marketing e l'affiliate è proprio la costruzione di relazioni e la costruzione di leadership. Quindi è un passaggio molto diverso che magari una persona che non è nel settore non comprende fino in fondo. Non basta essere estroversi e vendere per fare un network. Ho conosciuto un sacco di grandi venditori nel network e non sono riuscito a combinare nulla. Però sai che il discorso introverso e estroverso io lo vedo un sacco. Cioè tipo, io sono introverso di base, ma proprio tanto. Io ero quello che in classe stava in fondo, ci fa porre di alzare la mano per chiedere e non da un bagno. Quindi io l'ho lavorato sulla questa cosa e sono diventato estroverso. E vedo che è molto comune, o siamo tutti introversi, non esiste nessuno che è estroverso o ammette di essere estroverso, oppure veramente è una caratteristica comune in coloro che riescono a fare qualcosa. Perché io sono un copywriter, tantissimi copywriter sono introversi. Mi piace la vendita, ma non vuole costantemente avere a che fare con le persone, quindi fanno copywriting. Quindi ho un sacco a che fare con i ragazzi introversi, come io lo sono. Quindi è molto interessante vedere che è un pattern, un sacco di ragazzi vedo che sono introversi e pure ce la fanno. Io penso che la caratteristica buona degli introversi è che è una cosa negativa magari all'inizio, se non sai controllarla. Perché quando sei introverso ti concentri più su quell'altro che su di te. Quindi cominci a mettere i suoi bisogni prima dei tuoi. Il che è un errore, chiaramente, non deve essere stupido, deve essere un win-win, non un win-lose. Però questo ti permette di comprendere bene le emozioni della gente. E quindi tu arrivi al punto in cui se devi vendere o se comunque devi creare entusiasmo nelle persone, il miglior modo per farlo è comprendere le loro emozioni. Quindi un introverso riesce magari a farlo molto meglio rispetto a una voce troppo rumorosa. Non per dire che le estroversi non c'hanno i loro vantaggi, ovviamente. Parliamo di vendita allora. Vendita. Qual è il tuo formato di vendita preferito? Dal vivo, text message, copy, video call, qual è il tuo proprio formato di vendita e perché? Ma allora, personalmente io arrivo dall'offline. Parlavamo prima, ma arrivo dall'offline perché io nasco nel 2017 come networker. Quindi anche quando dovevamo fare un colloquio a 100 km lo facevamo dal vivo. Sicuramente lo sai, lo sai. La vendita è una trasmissione di fiducia, di energia. Quindi tra due persone al tavolo, nel network cosa si vende? Nel network si vende non il servizio, non il prodotto. E questo è un errore che fanno spesso i networker non preparati. Quindi se ci sono networker, è una tips importante. Nel network vendi te stesso. Quindi vendendo te stesso, vendendo fiducia dal vivo, è una trasmissione di fiducia più alta. Ovviamente la domanda non deve essere magari cosa preferisci fare, ma cosa chiede il mercato di fare. Quindi oggi chiaramente il mercato dal 2020 in poi ha chiesto di arrivare online. Quindi la vendita che noi facciamo quando parliamo del nostro servizio, in questo caso, lo facciamo tramite video fondamentalmente. E poi comunque appuntamenti one to one. Per video, giusto per criticare, per video intendi video proprio, non video call, video stessi. Un video, un video magari formativo, informativo dell'azienda, della company. E poi un appuntamento one to one di adesione. Questo è il processo fondamentalmente. Quindi VSL, mini fan generico, no? Sì. Abbiamo VSL, video call, ma prima di VSL? Allora, dipende soprattutto dal target di persone. Perché avendo una rete abbastanza grande... Marketer risponde alla domanda con dipende. Sì. No, perché abbiamo una rete molto eterogenea. Quindi le persone molto adulte preferiscono ancora lavorare col metodo standard. Che leggo e sento alcuni che dicono che è passata. In realtà la vecchia lista nomi dalla quale si parte non è passata e funziona. Quindi i vecchi metodi di referral, di segnalazione, eccetera. Mentre è chiaro che i new age, le nuove generazioni, come possono essere le persone della tua età, si lanciano giustamente, come ho fatto anch'io, sui social media. Quindi lavorare con un metodo attrativo tramite la costruzione di video, la creazione di video su TikTok e su Instagram che creano traffico. E quel traffico convertirlo magari in form. E questi form vanno a... E poi queste persone vanno a essere contattate direttamente dal profilo. Quindi questi sono un po' i due metodi. Che non c'è il più giusto o il più sbagliato, c'è la persona che si mette il costume che gli sta meglio addosso, ecco. Sì, sono d'accordo. Secondo me... Ora, per quanto riguarda TikTok, a parte TikTok è pazzesco perché c'è un potenziale ancora, e continua, non more lo stronzo, e continua ad andare avanti. Dici, no, è saturo, è saturo. Però poi c'è sempre uno che esce fuori. E TikTok da sfruttare come piattaforma di advertising praticamente. Perché è solo che è inflazionata. Quando fai le ads c'è mille persone che ti aspetti di vendere. Quando c'è mille persone su un video TikTok non vedi una sega, ti fanno numeri tipo 10, 20, 30, 50k. Quindi TikTok come modo per attrarre persone, avere interesse. Secondo step, performi intendi modulo. Performi intendo il modulo. E WSL. E il WSL tu lo preferiresti dare prima del modulo. Io preferirei darlo dopo, giusto per confermare. Anche tu lo preferisci dare dopo perché ti prendi il contatto, ovviamente. E dopo il WSL tu c'hai chiaramente il processo di vendita in video call. Ora, facciamo che uno sta veramente spaccando. Sta arrivando al punto in cui sta facendo un sacco di qualsiasi cosa venda. Che sia network, che sia vendendo un servizio. C'ha un botto di contatti interessanti. Lì cosa fa? Comincia a organizzarsi per avere delle persone sotto di lui? O comincia a selezionare di più i lead e a qualificarli un po' di più prima di arrivarci in call? Perché se no non c'è il calendario pieno di persone e non vuole alzare i prezzi. Cioè, qual è la mossa da fare quando cominci ad avere tante persone? Alzi i prezzi? Qualifichi di più? Ti prendi persone per aumentare la quantità? Cosa faresti tu? Allora, consideriamo che dipende dai vari business. Io ti posso rispondere per quello che è il mio business e soprattutto la mia situazione. Partiamo dal fatto che i ragazzi che lavorano tanto su TikTok in questo momento hanno un livello di lead che ancora è gestibile. Quindi 100-150 magari contatti al mese che possono gestire loro. Chiaramente, come dici tu, se si sale e quando si sale, perché l'obiettivo è sempre salire, la chiave è costruire un sistema scalabile, ok? Se io ti dovessi parlare personalmente... E tu dici sistema? Perché tanti non sanno proprio cos'è un sistema in pop business. Costruire un sistema, puoi costruire un sistema sui soldi, quindi che ne so, investimenti, o un sistema di persone, quindi aziende, ok? E se noi vogliamo diventare liberi dobbiamo costruire sistemi, ecco perché le persone non escono dalla ruota del dopo. Algoritmo, no, un processo ripetivo. Esatto, esatto. Bravissimo. Un processo, dobbiamo costruire un processo. Dipende sempre dall'obiettivo, non c'è il giusto o lo sbagliato. Quello che ti posso dire io, fossi io Gabriele, nella mia fase io alzerei. Quindi creerei, creerei un... Cioè, tu devi entrare a un determinato livello monetario, perché il mio tempo è prezioso e non posso investirlo. Una questione sempre dirò, non posso investire il mio tempo con persone che non riescono a stare al passo. Se invece magari sono dei ragazzi che sono in una fase diversa, quindi devono cominciare a costruire, abbasserei la soglia e magari andrei a pagare... Qualifica... Non la... Sì, anche l'entry level. Anche l'entry level. Invece magari del 1.500, anche il 300, però andrei o a saltare uno step, quindi a costruire un video in più che mi permette di caglionare di più, oppure hai la possibilità, se il ragazzo ha la possibilità di pagare una persona che faccia uno step intermedio, ok? Con il prospect. Un appuntamento, non lo fa direttamente la persona che fa... che genera il lead. Il percentuale. Esatto, perfetto. E quindi anche lui è incentivato a fare meglio su prestazione. Quindi queste sono un po' le due cose che puoi fare. Non c'è il giusto o sbagliato, dipende dalla tua strategia. Sì. Sì, secondo me... Una cosa che manca un sacco nel mercato adesso, soprattutto quelli ragazzi che stanno iniziando, in inglese si dice self-awareness, penso che in italiano sia coscienza di sé. Autoconsapevolezza. Quindi conoscersi abbastanza da capire che, ok, Gabriele ti dà un consiglio, Andrei ti dà un consiglio. Tu lo puoi pigliare alla lettera, però magari forse non dovresti. Forse dovresti in attimo adattarlo alla tua situazione e a come tu agiti. Tipo, io sono bravissimo a improvvisare. C'è un sacco di contenuti molto stupidi, molto divertenti che fanno un sacco ridere. Non è che devi farli per forza anche tu, perché vedi che fa 10k views. Quindi prendi i consigli e li adatti alla tua situazione. Però io penso che i sales sono fantastici, perché i sales li puoi prendere a qualsiasi livello, finché tu puoi promettere, ovviamente, al sales di non lavorare a voto. Quindi finché i lead che tu li porti sono qualificati e si vende veramente qualcosa di valido, un sales non è motivo per non prenderlo, perché alla fine tu lo paghi su percentuale, non è che c'è un costo fisso e non c'è nessun tipo di problema. E quello è intelligente. E quello che io consiglio per i copywriter che stanno iniziando, no? Io consiglio sempre il percorso del inizi che i prezzi ce li hai bassi. Non puoi aspettarti di fare le sales, puoi già un k quando tu non c'hai nessun lavoro passato. Inizi con prezzi molto bassi e ti crei domanda, perché il prezzo lo alzi quando c'è domanda. Ti crei domanda non smettendo mai di cercare clienti. Un errore che tanti fanno è fanno un po' di cash e lo smettono di cercare clienti. Zup, zup, zup. E non esci mai, è un loop costante. Celebrare troppo presto. Eh, di la tua su questo. Fondamentale questa roba, errore pazzesco in ogni tipo di business. Vendere costantemente è fondamentale. Vendere costantemente è fondamentale. Se tu interrompi questo, interrompi la crescita. Guarda, posso... Ti racconto una cosa. Nel 2021 ho fatto un grande boom nel mio network e ho fatto proprio quell'errore. Tornassi indietro. Perché? Perché ho fatto cifre importanti. Cifre importanti, ma la mia visione non era grande quando prendevi i soldi, bro. Hai capito? Quindi io pensavo di vivere di rendita per sempre, capito? Sì. E in realtà non si può tornare indietro, si può solo imparare. Quindi sono contento perché poi i cicli ci sono sempre. Al prossimo ciclo, quando sarò lassù, penserò già a quello dopo. Invece il mio errore nel 2021 è stato ciclo, app. Oddio, sono in rendita, sono fatto una... facevo uno stato al mese, due settimane in girce. Esatto. Pensando che sale. Invece i cicli ci sono per tutto. Ci sono per i business, per le relazioni, per i servizi, per i prodotti, per qualunque cosa. E quando sei up, devi pensare che un giorno ci sarà down e devi già prepararti. Quindi devi continuare a vendere, a promuovere, a crescere. Anche perché il sistema con la quale vinci oggi non è... La squadra che vince non si cambia, è sbagliato, bro. La squadra che vince si cambia perché con quella squadra non vincerai per i prossimi due o tre anni. Quindi devi già prepararti al prossimo ciclo, devi già pensare. Quindi devi continuare sempre a vendere, devi continuare a fare innovazione e sviluppo del tuo business costantemente. Costantemente, costantemente. Questa è la dura e schifosa realtà del fare business. Cioè immagina avere questo... Forse questa è una sana dosi di paranoia. Perché tu stai sempre pensando, ok, ho fatto il soldo, però appena smetti di guardarti dietro la spalla è lì che ti... il mercato ti fotte. No, è così. Anch'io l'ho fatto, io come l'ho fatto? Io ho fatto... Ma non era neanche così tanto, era tipo 15k. La prima volta che ho fatto 15k in un mese con i clienti, B2B. E io davo per scontato. Cioè, ma neanche era logico. Perché se io usavo un attimo il cervello e ci pensavo, cioè, quei clienti devo trovare altri il mese prossimo. Non è che funziona così. E invece no, invece mi sono preso la vacanzina, ho cazzeggiato. E lì per il mese prossimo tipo 5k. Quindi ho dovuto farmi il culo per risalire a quel livello lì. E non solo colpa mia, anche il mercato alla fine cambia. Quindi non è solo questione di io che mi distrago, è anche questione di il mercato cambia. Quindi il sistema che tu hai ora, ti imposto un bel sistema, non puoi dare per scontato che è un sistema che dura per sempre. Questa roba che ti insegna nella scuola, che tu ti trovi... Hai finito gli studi, hai finito gli studi, hai trovato un lavoro e sei a posto. No, no, devi costantemente reinventarti. E se non ti garba questo, fare business, perché non è per te. Non funziona così. Social media invece. Ora, tu usi Facebook? No. No, neanche io. I genitori, i miei nonni magari. Sì, vedrei che mette un like. Bel figliolo, bello, amore di nonna. Voglio sapere, il tuo social preferito da punto di vista consumatore, il mio YouTube? Il tuo social preferito da punto di vista business, marketing? Allora, beh, io credo che dipenda anche un po' dalle generazioni, io e te siamo due generazioni considerate diverse. Eh, ma io mi aspettavo che tu usavi Facebook. Ah, proprio vecchio così. Ma guarda che la mia storia la c'ha 26 anni, lei usa Facebook? No, no, no. Il mio social preferito è Instagram. Instagram da consumatore. Da consumatore? Eh, Instagram e... L'hanno rovinato, ci hanno messo i ricchi. Instagram e YouTube. Tu più ci posso dire, ci potrei passare. E YouTube. Anche per il business Instagram, fondamentalmente. Ti dico, TikTok l'ho da consumatore poco. Sto cominciando ultimamente, però ti dico, non voglio dipendere dai social media, voglio utilizzare i social media. Quindi ci entro poco. E quando ci entro, ci entro perché voglio prendere ispirazione. Quindi TikTok lo uso poche volte solo per prendere ispirazione. Non voglio permettere ai social media di prendere il mio tempo, capito? Quindi cominciare a scrollare perché è proprio una dipendenza. Cioè, vedo proprio che TikTok è devastante da quel punto di vista, quanto ti prende. E quindi cerco proprio di evitarlo. Non ho le notifiche sul cellulare. Ho tolto le notifiche dal cellulare. Solamente quelle che mi servono per il lavoro, ma parlo dei mercati finanziari. Solo quelle. Perché mi fanno guadagnare. E tutto ciò che non mi fa guadagnare non deve comparire quando non voglio io. Io ho, letteralmente, quando apro certe app sul computer, ad esempio un browser tipo Chrome, letteralmente automaticamente mi si disattivano tutte le notifiche. Così non ho l'autore di palle mentre sto navigando, navigando, lavorando, perché al fine il 90% del lavoro lo fai su Google Chrome praticamente. Sei sempre lì. Il mio social preferito è YouTube. Economia YouTube non andrà a nessuna parte. Tutti quanti dicano che TikTok si sta robando l'attenzione da YouTube. No. Secondo me YouTube rimane on top. È molto difficile fotore con YouTube. Perché TikTok sta facendo estremamente tanta fatica a monetizzare. Sta facendo tutte queste mosse. Non so se sei presente, però stavano facendo il revenue split qualche mese fa. Dopo due o tre mesi hanno smesso di farlo. Quindi tutti i creator che facevano un sacco di soldi 5-10k al mese con il revenue split, hanno detto la guada tipo dopo due mesi. Adesso stanno facendo lo shop tipo quello di Instagram che compri in America, ancora non c'è in Italia. Lo shop che compri le cose direttamente da TikTok mi pare. Quindi lì c'hanno un po' di revenue, però non riescono a monetizzare. Instagram, non mi ricordo chi l'ha detto, mi pare Zuckerberg, che non riescono a monetizzare i reel e quindi stanno cercando di portare le persone indietro sul feed. Gli shorts anche quelli pagano, ma pagano molto molto meno rispetto ai long form. Sui long form c'hai un revenue per mille di figa 5-10k se fai ambiente finanza anche volendo molto di più. Quindi secondo me il long form non va da nessuna parte, però sono d'accordo che TikTok rovina. Io un certo periodo, io adesso lo uso per ispirazione e per comprendere come funziona. Sì, tipo ogni tanto per capire se cambia qualcosa da punto di vista l'algoritmo e cosa la gente vuole vedere. Però c'è un periodo in cui proprio entravo su TikTok e senza nemmeno percepire che cosa stavo guardando, tipo in automatico mi andava al dito. Fuck, that's crazy. È lì che ho staccato. Instagram perché da punto di vista business? Però spiegami meglio perché Instagram da punto di vista business e cos'è che rende Instagram un buon social per business? Ma allora, in realtà nasce dal fatto, dall'abitudine, prima di tutto dall'abitudine, ok? Sono sempre stato più abituato a utilizzare Instagram. Instagram lo vedo tanto come un bigliettino da visita per un networker, ok? Quindi quando, ma credo per qualunque tipo di business, quando uno ti chiede, ti dice... Ma quando uno ti iscrive, tu vuoi vedere chi cazzo è? Esatto, quello che si sa per dire. Quando uno chiede Andrea e chi è Gabriele, vado su Instagram. Quindi è il bigliettino da visita. È un bigliettino da visita, deve essere pulito, deve essere bello, deve comunicare un certo messaggio, eccetera. Quindi sicuramente il fatto per cui utilizzo più Instagram è questo, un bigliettino da visita curato, aggiornato, nella quale una persona entra e vede un professionista, ok? Nel mio settore. Dopodiché, chiaramente, parlo personalmente, essendo una persona che è comunque conosciuta in Italia, nel suo settore, Instagram deve essere il posto di atterraggio dove aumenta la credibilità. Se non fossi su Instagram, la gente si farebbe qualche domanda, ok? TikTok, diciamo che lo consiglierei come prima piattaforma da sviluppare per un networker che sta cominciando. Ma solo per traffico, solo per la questione di traffico. Perché noi abbiamo... E non te lo tieni lì in traffico, te lo porti via. Bravissimo, quello che ti sto per dire è quello che noi facciamo, call to action, dove? Instagram. Anche perché molti messaggi su TikTok manco li si vedono o si cagano. Ma la gente non sa manco che c'è. Ma non sa manco che ci sia. Quindi la call to action è scrivimi su DM. Assolutamente sì, scrivimi su parola in DM. Perfetto, quindi nel fan l'Instagram è fondamentale. Dall'altra parte è fondamentale anche trovare traffico tramite Reels, che alcuni ragazzi del mio team vanno meglio su Reels che su TikTok. Non chiedermi perché. Roba estetica, la roba estetica va bene sui Reels, la roba cruda va bene. Ok, abbiamo capito perché. E quindi Reels e TikTok i ragazzi li utilizzano per traffico, basta. Poi la bellezza del profilo deve essere anche la creazione di un brand. Passa da Instagram, quindi anche contenuti di valore. Magari che fanno meno views, ma contenuti di valore dove si dice ok, questo non è solo un ragazzo che mi scrive, mi fa il Reel per motivarmi, ma mi dà anche valore, ok? Ci mette la faccia, racconta la sua storia nell'insight, racconta la storia dei servizi, dei prodotti, dei benefici, capito? Voglio conoscere qualcosa di più di te, vado su Instagram perché ne ho la possibilità. Sì, io sono un esempio raro perché io ho fatto un pool ai miei studenti, ne ho più di due k assurienti in totale, ho fatto un pool enorme e più di 60% delle mie vendite, dei corsi, solo di quello, vengono da TikTok. Ma la domanda specifica non era dove mi hai conosciuto, perché se era dove mi hai conosciuto il 99% mi ha conosciuto lì. La domanda era cos'è che ti ha dato la spinta finale, quindi cos'è che ti ha, pip, per convincerti a fare acquista. E più di 60% è TikTok. Ora, solo un caso a parte, perché io ho dei numeri stratosferici, cioè 250.000 persone, 60.000 persone, milioni di views, quindi è diversa la situazione ovviamente. Però secondo me non è da sottovalutare il fatto che su Instagram quasi scelgono di consumare un tuo contenuto, mentre su TikTok è più un discorso di non ti posso scappare. Perché io sto facendo il cazzo mia, ne per te, e poi torna. E non so quante volte mi hanno detto, Andrei, all'inizio mi stavi sul cazzo, perché io ho il personaggio dell'arrogante, del fare un po' il coglione, e dopo un po' però che ti tocca vedermi perché sono sempre lì, però un po' di ragione ce l'ha. Però assolutamente sì, perché inizia, io ho lo stesso identico consiglio, TikTok sfruttalo, ti porti le persone via, e anche perché TikTok potrebbe toglierti le views in qualsiasi momento, mentre Instagram no, su Instagram se posti una storia la vedono, o su TikTok per qualche santo motivo a volte non ti fai dare cose, quindi è molto più rischioso. Siamo a 28 minuti bro. Dai un consiglio finale, un consiglio finale, facciamo due consigli finali. Un consiglio per i networker che ci stanno sentendo, e consiglio per i copywriter principianti che ci stanno sentendo, perché io chiaramente c'ho un botto di copywriter. Do lo stesso consiglio, perché alla fine possiamo, può essere la stessa cosa. Primo passaggio, trova un mentore, fondamentale. Devi trovare un mentore, un punto di riferimento nel tuo settore, che sia quello che vuoi, non mi interessa, che può essere anche costruire case. Trova un mentore. Quel mentore non deve essere un mediocre, perché se tu hai il tuo mentore che è un mediocre, tu probabilmente sarai un mediocre. Eh, sarei peggio che il mediocre. Sarei peggio che il mediocre. Quindi cerca di trovare un mentore e che sia il numero uno. Punto due, immergiti totalmente in quello che fai. È fondamentale che tu ti devi immergere totalmente in quello che fai, che sia network, che sia copy, qualunque business, devi immergerti totalmente. Te voglio comunque, sei pazzo. Allora, i primi tre anni devi veramente lavorare tanto, poi arrivato a un certo punto non devi solo lavorare tanto, devi lavorare tanto in modo intelligente, perché non ti serve più lavorare tanto, ti serve lavorare in modo intelligente. Quindi magari la nostra fase, 4-5 anni, già raggiunto almeno 100k, eccetera. Fausto Lim e Bob the Builder lavorano un sacco, però non stanno facendo un caso di soldi. Esatto. Lavorare intelligente per andare per 10, portare il tuo business a livello esponenziale, e non mantenerlo. Per alzarlo devi lavorare anche in modo intelligente. Quindi, punto uno, trova un mentore. Punto due, immersione totale in quello che fai. Non devi pensare a quattro business insieme. Mi fanno morire le persone che mi parlano di quattro business. Io ho fatto almeno 100.000 euro, poi ho cominciato magari a diversificare, ma il 99% del mio focus è sul network. Fino a che non faccio almeno un milione all'anno. Cioè, non mi interessa diversificare, essere povero in quattro settori. Si fa bene uno alla volta. Abbiamo tempo. Perché la gente non si dà tempo. Soprattutto i ragazzi giovani. Non si danno tempo. Terzo punto, ripetizione. Ripetizione. Cioè, a fare copie, a fare network. Parti che non sei bravo. Magari sei un po' più avanti di un altro. E può essere anche una sfiga. Perché farsi il culo batte il talento. Questo è quello che credo. Arrivo anche dal calcio, quindi te lo confermo. Ripetizione massiva. Se non sei abbastanza bravo, non è che non sei bravo e che non l'hai fatto abbastanza. Io a fare gli inviti all'inizio ero una merda. Oggi potrei invitarti, dammi un numero, te lo invito, e guarda il business e mi ringrazia. Perché l'ho fatto talmente tante volte che sono diventato bravo. Quindi sono tre punti. Primo punto, trovo un mentore. Secondo punto, immersione totale. Terzo punto, ripeti la cosa nel tempo, diventerai bravo. Grazie Gabriele. Possono trovare su Instagram. Su Instagram, qual è il tuo username? Gabriele Sanpo. Trovatelo ora, altrimenti... Forse è punto Sanpo. Gabriele punto Sanpo. Forse, non lo so. Forse, andate a vedere, tanto lo trovate. E noi ci vediamo nella prossima. Ciao. Ciao ragazzi.